Ciao da Misk, ho appena fatto le qualificazioni al trampolino elastico, purtroppo non sono andate come volevo perché non sono riuscito a qualificarmi per la finale e sono molto deluso da come sono andate le cose perché potevo sicuramente se facevo il mio potevo entrare benissimo in finale, c'era una grossa possibilità e non ho fatto bene il primo esercizio, l'obbligatorio e purtroppo lì mi sono giocato la gara. Il secondo esercizio libero, diciamo che sono partito molto bene fino al settimo salto, però fino a lì era molto preciso, alto, dopo gli ultimi salti era un pochino più basso e sicuramente non aver preso un bel tempo di volo mi ha penalizzato anche un pochino lì, però tutto sommato il libro era un buon esercizio e peccato per l'obbligatorio perché mi sono giocato la finale con il primo esercizio e quindi diciamo sono abbastanza arrabbiato per questo, però penseremo al futuro, alle prossime gare che ci saranno per la qualificazione olimpica e saranno gare importanti, pensiamo a quelle adesso. Adesso poi c'è qua vicino a me Costanza che ha fatto ieri la gara e passo lei al microfono. Ciao a tutti, come ha detto Flavio io ho gareggiato ieri e sono abbastanza soddisfatta della mia gara, sicuramente potevo fare qualcosa meglio perché il primo esercizio è l'obbligatorio, non sono partita benissimo e quindi è stato un po' un rincorrersi durante i vari salti e quindi sicuramente quello è da migliorare. Il libero abbastanza bene, anche lì qualche errorino, però complessivamente sono abbastanza contenta e adesso sicuramente si torna a casa e si lavora sulla precisione, sui salti, cercando anche di aumentare le difficoltà in vista soprattutto delle prossime gare, però posso dire comunque che è stata una bella esperienza e sicuramente servirà anche per le prossime competizioni.